Buonasera a tutti voi, oggi è venerdì 27 aprile e cominciamo come consuetudine le trasmissioni di Libri.tv, questa diretta di questa sera. Come di consueto lo spazio del direttore e la virgola, oggi volevo sollevare una piccola riflessione su un argomento che un pochino è diventato un tormentone sui media in questo periodo, è un pochino la diatriba tra politica e cosiddetta antipolitica, è un tormentone io penso che ci accompagnerà per tutta la fine della legislatura e un pochino è anche alimentato dal palese fallimento di un certo partitocratico che lascia spazi a elucubrazioni che sono libere, legittime ovviamente, spesso anche un po' disperate, più o meno autorevoli. la riflessione che io volevo in questo piccolo spazio fare insieme a voi che ci seguite, ma anche a coloro che poi rivedranno questa trasmissione in diretta, più che definire la politica che è una cosa su cui sono stati scritti fiumi di letteratura e che non sarei in grado di fare in modo degno e decente, più che altro potrei provare a dare una risposta sulla funzione della politica. Io penso che la funzione della politica sia quella di dare una risposta alle esigenze, non solo ai problemi, le esigenze che se poi sono inascoltate diventano problemi, prima che diventino problemi, l'esigenza di una comunità organizzata, di esseri umani variamente organizzati in strutture che possono essere di vario tipo, storicamente dipendono poi dalle culture, dalle storie dei popoli, dalle tradizioni. Nell'Occidente più o meno abbiamo questa forma Stato, ma ci sono anche delle comunità, le comunità di Stati in forma federale o meno, ci sono varie aggregazioni umane e in ogni caso bisogna, tutte quante necessitano di dare una risposta a dei problemi che comunque la convivenza pone. È una necessità a cui si riesce a dare risposta, io penso soltanto con una visione che sia complessiva di tutta la struttura organizzativa, qualunque essa sia. Ecco, secondo me la politica deve esprimere questo e la politica in qualche modo incarna proprio questa espressione di un progetto o per lo meno di una prospettiva che ha la speranza di essere un rimedio efficace proprio alla convivenza di tutti coloro che possono essere cittadini o comunque gli individui che fanno parte di una comunità o di una collettività senza poi fare troppa dietrologia sulle singole terminologie, cosa che poi peraltro non mi appartiene. In Italia l'esistenza in questo periodo, l'esistenza e la vita di molte categorie di persone, ma io direi di tutti i cittadini in realtà, per vari motivi non solo economici ma anche sociali, sembra sia arrivata a un punto in cui non è più pensabile possa continuare come era in passato o per lo meno non potrà esserlo per un periodo. Ci sono necessità di aggiustamenti, di aggiustamenti sostanziali, in realtà si parla poi di crisi e crisi vuol dire in definitiva cambiamento. Ecco, la politica dovrebbe esprimere secondo me un progetto per poter governare questo cambiamento e soprattutto per subirlo il meno possibile. Secondo ovviamente le varie rispettive visioni, prospettive, ci sono dei gruppi comunemente, generalmente appunto sono i partiti nella storia dell'Occidente, ma non solo loro, che sono demandati a dare una risposta o meglio a esprimere una visione prospettica, prettamente politica, per dare delle ipotesi di soluzione a una convivenza civile e anche economica della collettività a cui fanno riferimento. Sono a volte delle visioni prospettiche anche parziali e qui io penso che è il discrimine tra politica e antipolitica. Cioè quando la visione prospettica di questi gruppi è troppo parziale, è troppo concentrata su delle singole categorie, senza appunto avere una visione di insieme, si realizza una antipolitica, perché è completamente avulsa a volte da un contesto e spuntano questi partiti a un consenso molto fidelizzato, anche se ristretto, molto fidelizzato da parte di cittadini che tramite il consenso e il voto si esprimono. Penso che questi partiti a cui gli elettorati si esprimono con consensi quasi unanimi, invariabili nel tempo, direi spesso anche integralistici, infideistici addirittura, sono proprio quelli che secondo me sono qualcosa che si avvicina molto al concetto di antipolitica. sono appunto quelle che esprimono delle prospettive molto mirate e parziali. Diversamente quelli che invece, anzi non diversamente, proprio questi partiti rispetto appunto diversamente alla politica, proprio questi partiti sono quelli che nonostante il fallimento che esprimono rispetto ai loro programmi negli anni, vengono votati, comunque sia riscuotono un consenso continuativo nel tempo. Esprimere un progetto complessivo che sia più o meno organico, ma comunque sia un progetto che sia ad ampio spettro, è un progetto politico e che sicuramente è antidemagogico, perché considera, cerca di considerare, cerca di contemplare, di contemplare le esigenze di una ampia fetta di popolazione, di varie categorie e si rischia per questo molto spesso di essere impopolari. Poi ovviamente resta alla maturità delle persone, alla maturità dei popoli, più o meno delle collettività che esprimono il consenso attraverso degli strumenti democratici, strumenti democratici che non sono mai da dare per scontati e quindi parliamo in questo caso del voto, quindi spetta allora in qualche modo poi comprendere il progetto, valutarlo e magari apprezzarlo attraverso poi quando è l'appuntamento elettorale e in qualche modo dar loro la dignità di un progetto realistico, realizzabile attraverso la rappresentanza politica. A volte per fare questo bisogna uscire, questa è un pochino una riflessione che chiaramente riguarda noi italiani che viviamo in un periodo particolarmente grave, ma in definitiva se ci guardiamo intorno siamo accomunati da molti altri popoli che albergono in questa entità un po' indefinita che è l'Europa, senza altro molto diluita, senza altro non politica, viviamo a volte un po' dentro una buca e dobbiamo in qualche modo per avere una prospettiva che un pochino ci faccia capire ciò che c'è intorno, dovremmo in qualche modo fare uno sforzo di affacciarci da questa buca e guardare intorno e capire che il sole è uno solo per tutti e la luce in qualche modo dobbiamo spartircela, non possiamo averla tutti quanti sempre allo zenith. Questa qui è una riflessione che un pochino mi è scaturita dalle riflessioni, dalla lettura di giornali in questo periodo in cui purtroppo c'è molta antipolitica in giro. Questo qua volevo dirvi, vorrei che magari anche con la registrazione su questa cosa vi pronunciasse anche voi con i commenti che non so se adesso state facendo sulla chat, ricordo che c'è sempre possibilità di interagire con la chat per le nostre trasmissioni e questo è quanto volevo dirvi oggi per quanto riguarda lo spazio di riflessione della virgola. Passerei rapidamente a illustrarvi il paninsesto. Dopo la virgola del direttore, appunto questo spazio qui, ci sarà alle 21.15, all'incirca, lo spazio a certi diritti, con il titolo Essere o non Essere, questo è il genere. In questa trasmissione avremo un'intervista a Francesca Eugenia Busdraghi, Presidente dell'Associazione Azione Trans, questo spazio è curato di consueto da Riccardo Piano. Questo spazio durerà alla fine dell'21.45, dove al momento dell'21.45 comincerà poi la trasmissione Voci Radicali. Voci Radicali che oggi vi proporrà uno speciale di interviste sulla seconda marcia, cioè registrate durante la seconda marcia per l'Aministria, la Libertà e la Giustizia organizzata dal Partito Radicale che si è tenuta il 25 aprile a Roma. Queste interviste le ha realizzate e sono un filmato, nel filmato originale di più o meno 55-60 minuti all'incirca. Noi avremo uno spazio soltanto di mezz'ora per Voci Radicali, quindi praticamente verrà proposta più o meno metà di queste interviste. Per tutte le altre vi do appuntamento sul sito, saranno disponibili ovviamente liberamente se potrete linkarle dove volete senza nessun problema. Ve le in qualche modo raccomando, non perché le ha fatte liberi.tv, ma perché sono delle interviste a partecipanti anche a forze politiche non radicali che si sono sentiti di partecipare, di appoggiare e di sostenere appunto questo appuntamento seconda marcia per l'Aministria, la Libertà e la Giustizia. Alle 22.15, quindi a termine di questa mezz'ora di Voci Radicali, avremo uno spazio live, un dibattito su specismo e antispecismo, radici e prospettive di una lotta millenaria. In questo spazio avremo appunto un dibattito con Giovanna Devetag che ci presenterà gli ospiti che sono Marco Maurizzi e Leonardo Caffo e questo spazio sarà condotto da Stefano Russo. Spazio che si protrarrà fino alle 22.45, quando avremo un altro spazio in qualche modo registrato, a tavola con la filosofia, è lo spazio curato da Giancarlo Calciolari, in cui in questa giornata, in questo venerdì, avremo la presentazione del libro Totalitarismo, democrazia, etica pubblica, edito da Aracne, Roma, ed è un libro edito, avremo anche intervista all'autore, Federico Sollazzo, punto spazio, come dicevo, a cura di Giancarlo Calciolari. Alle 23.45, in chiusura, leggere euforia, spazio ormai consueto, di informazione dal mondo antiproibizionista. È la consueta rubrica che è tenuta da Claudia Sterzi. In questa puntata parleremo delle vecchie e nuove rotte del narcotraffico e poi del dibattito antiproibizionista italiano. Per le 23.45 è prevista la chiusura delle trasmissioni. Speriamo di non essere in ritardo, di non fare ritardo come la settimana scorsa, di non avere problemi. questa è la previsione che cercheremo di rispettare. Vorrei ricordarvi soltanto che c'è la possibilità dell'interazione sulla chat e se qualcuno ci ha pensato, io spero, ma non lo so, e se non c'è stato nessuno, vi chiedo di farlo. Vi chiedo ovviamente di iscrivervi all'associazione liberi.tv tramite la Liban che adesso comparirà sulla chat. Si può fare un'iscrizione che costa soltanto 10 euro, è un sostegno importante. Per noi speriamo di svolgere un servizio a tutti coloro che ci guardano, di intrattenerli in modo interessante. A questo punto io vi saluto e quindi vi lascio allo spazio successivo che è lo spazio di certi diritti condotto da Riccardo Cristiano. Grazie e buonasera. Grazie. 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 Grazie.